Siamo in un grande campo di grano nel comune di Monte San Savino dove sono visibili i danni che nei giorni scorsi hanno causato i cinghiali, gli ungulati. E' davvero emergenza come ha rilevato anche la coltichetta nei giorni scorsi, 20-30 cinghiali, ungulati, la notte scorazzano per questi campi creando dei danni davvero ingenti agli agricoltori. Come ci racconta questo imprenditore agricolo che è davvero ormai sconsolato e non sa più come fare. E' successo che la notte qui ci pascolano continuamente ma non è ora, sono 20 anni che succedono queste cose e rimborsi danni, quasi niente o niente. In più te prendono in giro perché tanto è sempre così la situazione. Io lo dicevo prima, io mi vergogno a vive in Italia. Lei che coltivazioni ha? Io ho grano, girasole, grano turco, un po' di favino. Questa è una zona che quando c'è o grano o girasole che sono terreni prevalentemente da queste culture, quindi sono cinghiali maialati che fanno più danni ancora, non hanno paura di niente e tritano tutto. E quindi quando passano è un disastro? Disastro. Qui ad esempio siamo, vediamo insomma qui e sono passati? Qui sono passati, si vede chiaramente, ma non solo qui, perché se vai più su è peggio di qui, se vai lì di sotto è peggio di qui e se non le guardi un po', se non le segui, che qualche notte gli fai qualche tonfo, mortaletti, roba così, ti distruggono tutto. Ma nei girasoli è peggio che nel grano, perché i girasoli proprio le distruggono totali. Lei li ha visti appunto anche qualche notte? L'avrò visti. Quanti ne vedi? Ne ho contati anche 40. Tutti insieme qui in questi campi. Io qui ho 10 ettari di terreno, un po' che il mio figliolo e un po' che io. Io qualche notte ho contato 40 animali, fra piccoli e grossi. D'anni? Di che danni si parla? D'anni si parla, ecco, per esempio quando c'era girasoli due anni fa, io gli posso dire che 50 quintali e girasoli li avevano mangiati loro. Coldigate ha denunciato spesso questa emergenza a Ungolati, lo ha fatto anche in questi giorni e lo sta seguendo con molta attenzione perché i danni sono davvero ingenti. Sì, la situazione è ormai insostenibile, è un annato un po' particolare questa perché i danni meteo, queste bombe d'acqua, queste pioggi torrenziali che arrivano di continuo non fanno altro che danneggiare le produzioni. Se a questo ci mettiamo sul cereale un prezzo di mercato notevolmente più basso rispetto a quello che sarebbe il minimo indispensabile da poter considerare, a questo ci sommiamo sopra questo scempio che fanno gli Ungolati nelle nostre campagne, veramente stiamo mettendo in serie a rischio la sopravvivenza delle imprese agricole.